Ci sono diverse novità nei programmi stilati dalla pista oese per la prossima stagione. Tra queste, a livello operativo, segnaliamo l'arrivo del nuovo segretario, il fiorentino Neri Cresci. Subentra al posto di Giampaolo Gorelli. Per quanto riguarda l'area tecnica, il secondo di Morgia è Michele Coppola. Gabriele Toschi è il preparatore atletico, nuovo anche il fisioterapista. Si tratta di Giampaolo Fagni, promosso sul campo il massaggiatore Bruno Rocchi. Confermatissimo lo staff medico con Roberto Barbieri e Gianluca Taliani. L'allenatore Massimo Morgia seguirà in modo particolare l'attività del settore giovanile, che comprende le formazioni juniores, allievi, giovanissimi A e B ed esordienti. L'area tecnica resta affidata a Federico Bargagna. Sono in corso trattativo per la conferma di Floriano, Toledo, Buglio, Gambadori e Bigoni. Hanno accettato le offerte della società con Lacchioni, Cecchi e Varutti. Si allontana il sogno di riportare un arancione marino Taddeucci, sul quale concorrono una mezza dozzina di società. Possibili le intese con Fiorentina e Siena per Belli e Giordani. Nelle intenzioni di Morgia ci sarebbe la volontà di comporre almeno una dozzina di giovani quote. Potrebbero arrivare tra gli altri due portieri del 95. Resta aperto il discorso consestito. Sembra tramontata invece la possibilità della conferma dell'attaccante Gucci. All'apertura ufficiale del calciomercato del primo di luglio, la Pistoese, stando alle intenzioni, potrebbe presentarsi con l'organico già disegnato. Grazie. 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 Grazie.